Ciao ragazzi, benvenuti al nostro appuntamento con il TG Eventi di Urban Week. Il 22 dicembre va in scena La Bohème al Teatro Massimo di Palermo. Il 23 dicembre invece Giovanni Sollima si esibisce a Casa Professa a Palermo. Il 25 dicembre Mario Mann presenta A Night for Christmas al Ma di Catania. Il 26 dicembre invece vi invitiamo a visitare il presepe vivente di Taormina in provincia di Messina e concludiamo il 27 dicembre con Alessio Bundi che si esibisce al Teatro Piccolo di Catania. Se volete pubblicizzare il vostro evento scriveteci sulla pagina www.urbanweek.it. Ciao a tutti! Ciao a tutti!